salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qualche settimana fa ho portato qua sul canale la mia prova e le mie opinioni riguardante la rete fwa nel mio caso di wind 3 ma ovviamente la rete fwa è disponibile da tantissimi altri operatori la rete fwa come sapete di un modem che viene installato in casa e di una scheda sim che viene installata appunto nell'interno dei modem che riceve il segnale dalle antenne che abbiamo nella nostra zona come succede per tutti gli smartphone e come per gli smartphone appunto più ostacoli abbiamo nella ricezione del segnale più il segnale avrà dei limiti quindi utilizzando i modem che ci vengono dati in dotazione in questo caso da wind 3 che è un modem a huawei ma qualsiasi altro modem ha normalmente qua dietro la possibilità di collegare due antenne esterne cosa vuol dire che potremmo installare un'antenna esterna alla nostra abitazione per ricevere meglio il segnale che arriva dalle antenne wifi del nostro operatore quindi ho deciso di montare un'antenna esterna la monteremo qua sopra perché comunque è la zona che va a ricevere meglio le due antenne che ho disponibili di wind perché se noi andiamo nel sito lte italy ci dà la possibilità di vedere l'operatore che utilizziamo e soprattutto dove sono posizionate le antenne di quell'operatore rispetto alla nostra abitazione vi lascio qua sotto il link di lte italy appunto per vedere voi come siete messi mettete la vostra via e la vostra città al vostro paese e subito vi da tutte le antenne disponibili io ne ho due disponibili sono tutte e due in quella direzione e in quella direzione quindi ho optato per acquistare un'antenna che copre 180 gradi adesso lo andremo a vedere da vicino perché vi dico questo perché in base a dove sono posizionate le antenne potrete scegliere quale antenna installare ci sono antenne che coprono a 360 gradi ovviamente sono un po più limitate nella ricezione del segnale perché coprono sia uno spettro più ampio dal punto di vista della direzione ma andiamo un po a perdere quello che è appunto la ricezione massima che potremmo ottenere io ho acquistato quella 180 gradi appunto perché mi copre quest'area e poi c'è la possibilità anche di acquistare quella super direzionale però qua bisogna avere proprio lì essere sicuri che l'antenna a cui ci colleghiamo è quella e va posizionata in maniera quasi perfetta quindi anche un po più impegnativa nella essere posizionata e una cosa che mi stavo dimenticando che la mia tipo wind e 3 passa da un'antenna all'altra quindi le usa tutte e due quindi una cosa che va controllata anche quella perché se vi direzionate verso un'antenna ogni tanto lui si connette ad un'altra che dall'altra parte ovviamente andate a perdere il vantaggio di avere un'antenna esterna nel mio caso tutte e due sono da quella parte quindi adesso vado a farvi vedere qual è l'antenna che ho acquistato allora l'antenna che ho scelto è il modello della casera appunto che copre a 180 gradi lei fa funzionare sia reti 4g che 5g quindi è possibile utilizzare praticamente con tutti gli operatori e con tutti i modem o router disponibili vi faccio vedere cosa c'è nella confezione allora abbiamo l'antenna guardate quanto è grossi livello di dimensioni ovviamente lei può stare tranquillamente all'esterno resiste a pioggia neve acqua freddo sole nel mio caso prenderà sole e freddo quindi non prenderà neve pioggia in quella posizione poi abbiamo due cavi perché ovviamente faccono connessi entrambi perché sono due l'antenna all'interno del modem sono cavi lunghi dieci metri è possibile si mette di una prolunga ma andremo a perdere quello che è la potenzialità del segnale quindi consigliabile utilizzare al massimo questa lunghezza però se proprio volete o dovete potete comunque mettergli una prolunga poi abbiamo i due spinotti adattatori per collegarli al modem perché comunque dietro al modem abbiamo queste spinette molto piccole mentre da questa parte collegheremo queste spinette al cavo che abbiamo in dotazione poi abbiamo questa staffa che in collaborazione con questi agganci ci permetterà appunto di fissare l'antenna ad un palo in dotazione abbiamo appunto il kit per fissare ad un palo quindi il palo dell'antenna nel caso avessimo un palo dell'antenna dove fissare o un qualsiasi altro palo io come avete visto lì non ho nessun palo quindi ho dovuto improvvisare un palo che palo metteremo il palo che metteremo è questo una staffetta in metallo che si acquista in un qualsiasi brico e un piedino di un mobile o un piedino per mobili che si acquista in qualsiasi brico quindi andremo a montare il tutto in questa maniera e ecco che ho creato il mio palo quindi fissero questa staffetta line alto e appunto con il supporto che abbiamo in confezione potremmo direzionare l'antenna andando la mettere appunto nella posizione ideale per ricevere meglio il segnale è una cosa che devo fare è bucare ovviamente il muro in questa posizione circa dove poi salirò con i cavi fino all in alto perché comunque all'interno della casa da questa parte è dove arriverà il mio cavo quindi dietro la tv uscirà il cavo che poi andrà a essere collegato al modem quindi questo è il lavoro che andremo a fare in questo momento buccheremo prima il muro qua sotto poi metteremo la staffa la in alto bucando e fischerando appunto il tutto e poi andremo a montare l'antenna e faremo la prova dell'antenna quanto è migliorata la ricezione perché comunque migliorare la ricezione non è solo migliorare la quantità di dati che trasporta ma soprattutto la stabilità del segnale perché comunque le reti che arrivano con le onde radio basta un qualsiasi ostacolo in mezzo per andare comunque a diminuire la ricezione che abbiamo quindi detto tutto questo adesso tolgo la televisione trapano e facciamo la prova della resa nella ricezione di questa antenna della casa ovviamente il link qua sotto in descrizione iniziamo il lavoro il primo è andato perfetto il buco l'abbiamo fatto ovviamente due passaggi in un po più piccolo poi uno più grosso da 22 mm e adesso proviamo a vedere se il cavo passa ed esce dall'altra parte perfetto i cavi li abbiamo dopo qua daremo un po di stucco un po di colore però direi che ci siamo per tanto è tutto coperto dalla televisione e adesso non resta che fare i buchi per montare la staffa la in alto quindi adesso prendiamo la scala e iniziamo a trapanare ok trapano e buchiamo la in alto qua e cemento armato quindi e anche fisher piccoli vanno bene perché tanto il peso dell'antenna non è tantissimo il cemento armato tiene di bestia perfetto anche il palo l'abbiamo montato e adesso arriva la parte più interessante l'antenna e i collegamenti andiamo a fare la parte più interessante del lavoro perché comunque è questa quella che ci interessava di più andare a fissare appunto lei la caser 180 gradi allora andiamo a posizionarlo ok dopo andiamo a stringere anche i dadi qua dietro per direzionarla che comunque li ho solo stretti un po ma vanno ancora direzionate perché quando installata potrò vedere meglio dove punta ok lei è bella fissa adesso non ci resta che tirare questi dadi una volta che abbiamo orientato l'antenna perfetto adesso andiamo a collegare i due spinotti dei due cavi basta solo andare ad avvitare perfetto ragazzi il lavoro qua fuori è finito è venuto benissimo secondo me o meglio è venuto come speravo che venisse quindi sono contento del lavoro che ho fatto quindi direi che da questo punto di vista ci siamo adesso entriamo in casa colleghiamo i cavi al router e vediamo se c'è un miglioramento nel segnale spesso e volentieri l'antenna non è per avere più prestazioni quanto per avere un segnale più forte e più stabile in tutte le condizioni e soprattutto un miglioramento appunto del segnale rispetto a quello che avevate in precedenza quindi entriamo e facciamo il test ok quindi avete visto che l'installazione fuori è venuta in maniera perfetta e adesso andiamo a montare l'ultimo passaggio cioè quello dei connettori che vanno a collegare il cavo che entra dall'antenna al router quindi dovremmo mettere questi riduttori andiamo ad avvitarli che è davvero semplice bisogna solo avvitare la parte diciamo maschio femmina perfetto e adesso abbiamo questi piccoli connettori che devono andare a collegarsi in questi spinottini qua che abbiamo in questa posizione ma prima di fare questo andiamo a fare il test di come si sta comportando adesso il modem che vedete che è acceso ma ovviamente non ha l'antenna collegata quindi dobbiamo vedere come si comporta dal punto di vista del segnale il segnale in questo momento abbiamo 96 dbm quindi con le antenne interne andiamo a collegare l'antenna esterna perfetto e andiamo a vedere cosa è cambiato innanzitutto è cambiata la scritta che è diventata extra vedete quindi non è più interna ma le antenne sono esterne e abbiamo 89 dbm quindi c'è stato un incremento e direi anche abbastanza importante per quanto riguarda appunto la qualità del segnale o meglio la potenza del segnale che stiamo ricevendo abbiamo sicuramente un segnale più forte più stabile magari anche quando ci sono un po di intempere quindi un po di maltempo vento pioggia temporali dovrebbe mantenere un segnale più stabile in qualsiasi situazione questo è quello che ovviamente si va a ottenere soprattutto se mettiamo poi l'antenna perché abbiamo magari il modem magari in taverna o comunque in un'area molto chiusa dell'abitazione in cui le onde radi devono attraversare tanti muri per raggiungere il router in quel caso ancora di più si sente il vantaggio di avere un'antenna esterna ma comunque è sicuramente interessante fare lo stesso la prova di velocità dati anche se non è per forza direttamente proporzionale con l'aumento del segnale però è un pochino dovrebbe aumentare anche quello speriamo magari anche tanto però non per forza è direttamente proporzionale quindi adesso andiamo a fare il test con le antenne vedete sconnesse quindi non sono connesse al router vado a fare l'avvio del test e vediamo le prestazioni perfetto senza antenne abbiamo 83 in download e 17 in upload quindi adesso non ci resta che andare a collegare le antenne e rifare il test antenna collegata quindi usciamo e diamo il vai e vediamo il suo comportamento a livello di resa allora vedete che le prestazioni sono veramente entusiasmanti abbiamo 28 di ping 101 di download e abbiamo addirittura guardiamo l'app load che arriva fino a 55 quindi avete visto che c'è un incremento veramente importante rispetto a quello che abbiamo ottenuto senza le antenne dove eravamo circa intorno agli 85 30 qualcosa di ping 17 addirittura di upload adesso andiamo a vedere la schermata così li confrontiamo in maniera più precisa come vi ho detto sono tre i tipi di antenna vi lascio qua sotto tutti e tre i tipi cioè quella che ha diciamo un spettro a 360 gradi che ovviamente quella che rende un po meno ma copre un'area più vasta in base appunto a dove l'antenna che trasmette verso casa nostra è quella commesso io che l'antenna 180 gradi perché sapevo che i due ripetitori sono in quella zona quindi quella da 180 gradi mi avrebbe sicuramente raggiunto le antenne di trasmissione e poi c'è un'antenna più direzionale ma quella bisogna sapere bene dove è il ripetitore puntarla e soprattutto bisogna sapere la vostra rete si connette sempre a quell'antenna di trasmissione mentre come vi ho detto io all'inizio video a me si connette su due antenne diverse passa da una all'altra in base probabilmente alla saturazione di una la saturazione dell'altra quindi switch da una all'altra quindi con quella direzionale non avrei potuto avere un risultato ottimale perché su quale l'avrei puntata non sarebbe stato possibile quindi ragazzi questo era solo un video test in cui vi ho fatto vedere come si può montare un'antenna esterna piaciuto vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anche di questa situazione è arrivato qualche spoiler sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale anche di queste antenne quando sono in offerta sicuramente riposterò sul mio canale telegram ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial novità ciao e al prossimo video